Andrea, prima di andare via, fai solo a lavorare le ruote e poi mi cerca di venire su e sporcandolo almeno possibile. Perché lei nena se no non mi paga più la bolletta. Osti! No! Qua lui, dopo vuole che gliela buona anche a lei. Dopo non devi lavare la tua. Quando arrivi qua, tu hai picchiato la coppa, guarda. Guarda. Tocca un pelo il davanti appena appena qua e fai come un saltino sulla moto. Ah, non ci sono, allora... No! No, prova. A parte che è a punta è già stupido. Infatti, non sentiamo. Guarda che te lo fa lui. Tocca appena appena la punta e poi salti su. Non arrivare col dietro contro. Fai solo quel sasso lì. Guardalo. Guarda come lo fa lui, eh. Ok? C'è un po' giatto lì. Tocchi il davanti appena appena... Ah, deve essere quasi qua. Con la ruota davanti. Qua. Di modo che quando picchi al davanti, il dietro ti aiuta a salire. In automatico. Se no picchi il dietro e fa fatica. E ti scappa giù come ti ha fatto a te. Bene. Prova. Lo diamo. Bravo. Eh sì, eh. Ascolta. Hai portato i pantaloni? Hai? Hai portato i pantaloni? No. No. E scusa, la forbice l'hai portata? La forbice c'è sempre in macchina. No, ma quella che è nella carta. Oh, bravo. Hai visto? L'ho fatto. Bene o male? Vedi che è molto meglio di prima? Io non so capace. Prova. Prova. Perché non ascolti? Prova. Vedi che lui una volta l'ha già fatto più giusto. Eh, lui è uno che capisce. No. Bravo. Bravo. L'ha fatto giusto. Prova. Prova a vederselo fa anche te. Voglio vedere. Bravo. Sei già più bravo di tuo fratello. Vedi che ci vuole poco, ma quel poco ti aiuta. Ah, lui deve venire qua con lo zio Seve. Gli mette giù un po' di cose, un po' di pesi, lo mette a posto subito. Bravo. Bravo.